Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Allora, come vedete già dal titolo, oggi parliamo di Unica. Questo documentario su Netflix, sulla figura di Hilary Blasi, in particolare è un prodotto che si concentra sulla sua storia, per arrivare qua all'obiettivo, ovvero la storia del divorzio con Francesco Totti. Ora, perché parlare di un prodotto del genere? Da una parte perché mi sono reso conto che, nonostante la notizia della realizzazione di questo progetto, anzi, proprio la semplice notizia che tra pochi giorni sarebbe arrivato questa specie di documentario, che più di documentario sembra quasi una chiacchierata, un po' tra amici, per sentire la versione, possiamo dire, di Hilary Blasi, mi sono reso conto che se ne è parlato tantissimo. È una cosa che mi ha estremamente meravigliato, ovvero come può davvero interessare la storia del divorzio, comunque sia quello che è arrivato, quindi, dalla nascita di un amore al matrimonio e poi dopo vent'anni il diretto divorzio, tra due persone sicuramente molto importanti, molto popolari, influenti nel mondo, diciamo, dell'intrattenimento, da una parte dell'intrattenimento, come la figura di Hilary Blasi, dall'altra parte, a livello sportivo, anche se, come sapete, Francesco Totti non gioca più a calcio, ha dato l'addio a calcio, insomma, non è giusto che sia l'età avanzava, quindi sono figure estremamente di spicco. E allora, per estrema curiosità, ho visto questo documentario diversi giorni dopo la sua uscita, non subito, molti si sono letteralmente fiondati, perché dovevano vedere che tipo di progetto era, io sinceramente non avevo questa grande urgenza. Devo fare una premessa incredibile, potrebbe sembrare un video stupido. In realtà, secondo me, questo prodotto su Netflix nasconde dei pregi, ma anche tantissimi difetti. Attenzione, ennesima premessa, sono romano e sono anche romanista, ma di tutta questa vicenda, come dello stesso matrimonio di Totti, che ho vissuto in prima persona, perché sono uno di quelli che a casa era in diretta su Sky a guardare, diciamo, il matrimonio di Francesco Totti, non ho mai fatto un grande problema, ovvero sono anche molto critico verso la mia squadra, la Roma, che tifo da quando sono bambino, che tifo tuttora, e continuo a sostenere tuttora, però del fatto del privato, allora, il privato dei giocatori è il loro privato. Se poi diventa un privato tipo Smalling, che è un pazzo scellerato, che non vuole curarsi perché parla con gli alieni, ok, quello un po' lo prendiamo in giro, no? Chi è tifoso della Roma sa quello che sta succedendo a Smalling, che è praticamente infortunato, non vuole prendere le medicine, perché lui non prende medicine, però dice di parlare con gli alieni, e che ha visto gli alieni. Quindi, diciamo, il privato, inteso proprio come con chi ti sposi, con chi stai, la tua vita privata, con il partner o la tua partner. E di questo ce ne frega poco, almeno in ambito sportivo. Se hai le gambe e riesci a far tutto, bene. Però mi sono anche reso conto, guardando questo documentario, che effettivamente c'è un motivo, se la gente è sempre stata estremamente interessata, la figura privata, specialmente di queste due personalità, estremamente forti, estremamente popolari. Allora, ho visto il documentario, e ripeto, ci sono, secondo me, delle cose molto interessanti, altre cose che non sono interessanti. E faccio un passo indietro. Vi ricordate, più o meno un paio di anni fa, due o tre anni fa, su Prime Video, uscì un documentario su Chiara Ferragni. Chiara Ferragni di Spouted, una roba del genere. Era un prodotto, ne avevo scritto un paio di righe, se non sbaglio, sul vero cinema. Era un prodotto estremamente particolare, perché era proprio tutto ciò che c'è di bello, e di come si fanno i documentari, da una parte, ma al tempo stesso era anche tutto quello che non dovrebbe essere fatto nei documentari, perché essenzialmente non me ne frega niente. O almeno, la prima metà del documentario su Chiara Ferragni è proprio lei che crea da zero tutto, noi lo sappiamo che lei fa parte, lei è di una famiglia con soldi, ricca, e dunque ha investito tanti soldi nella promozione del suo blog, insomma, non un qualcosa che una persona da zero, da nulla, senza un grosso sostentamento finanziario può fare così. Però, comunque sia, c'è stato un inizio, una crescita, ti fa vedere poi quello che lei ha creato, questo suo piccolo impero, fatto di social, di negozi in giro per il mondo, di brand, va benissimo. Poi c'è tutta la seconda parte del documentario che parla di lei e Fedez, della loro vita privata, e questo sinceramente a me non frega niente, perché, comunque, sia nel raccontarmi, nel documentarmi un evento, mi piace sapere un po' l'evoluzione del brand, diciamo, Chiara Ferragni. Chiara Ferragni e Fedez non me ne frega niente, anche se uno potrebbe trovarci altri aspetti, diciamo, di costume, di come si inseriscono nel contesto odierno, nel sociale, assolutamente, ma diciamo che nell'idea di un documentario che ci racconta la vita di qualcuno, la prima parte del documentario su Chiara Ferragni era un pochino più interessante. Questa cosa qui su Ilari Blasi e Francesco Totti è più o meno la stessa cosa, peccato però che per l'80% di questo documentario praticamente non te ne frega niente e poi rimane un piccolo 20% che secondo me è interessante, è interessante per i soliti temi puntellati che poi non vengono più approfonditi ed è un peccato. Allora, diciamo che diciamo che di base il progetto è molto semplice, c'è Ilari Blasi che ti parla della sua storia d'amore partendo però è anche molto intelligente il modo in cui è stato costruito questo documentario ovvero Ilari Blasi ti dice subito che lei ha fatto un errore lei non sto qui a dirvelo insomma magari uno lo vuole vedere vi lascio comunque sia sempre la curiosità di vedere questi prodotti anche se qualcuno può criticarli a prescindere dicendo non vedo tanto è una porracciata sapevo ciò a cui andavo incontro assolutamente però la curiosità era a un certo punto quando ho visto che era un prodotto così chiacchierato ho detto voglio andarla a vedere e dunque vi lascio anche io la curiosità Ilari Blasi dice c'è stato qualcosa diversi anni fa un po' di anni fa che io ho fatto alle spalle di Francesco Dotti ok lui non l'ha mai accettata è andata male e poi comincia a raccontare la sua storia d'amore molto bello il modo in cui viene narrato la narrazione non è spesso casuale nei documentari serve ad attirare subito l'attenzione ovvero io ho fatto questa cosa alle spalle di Francesco ed è successo così e poi ricominciamo indietro io facevo gli spot pubblicitari ho fatto qualche particina passaparola era una letterina bla 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 e poi arriva Francesco tutto il resto quello che noi già sappiamo ci sposiamo i figli l'addio a calcio di Francesco Dotti e poi da lì i primi problemi cioè un paio di anni dopo l'inizio di questa crisi che insomma più o meno a sentire queste cose a vede subito luce un paio di anni dopo l'addio al calcio di Francesco Dotti la narrazione dicevo è abbastanza precisa no? ha uno scopo e lo porta a termine in modo molto semplice cioè un iniziale colpa che lei ammette poi la storia d'amore importantissima che gli ha dato vent'anni di felicità tre figli e tutto il resto e poi la crisi i problemi e poi la chiusura di questo documentario che dura scarso un'ora un quarto sinceramente è già anche troppo ci sono un paio di elementi che ho trovato estremamente interessanti il valore in sé del prodotto è molto piccolo bisogna dire è proprio un capannone intervistatore lei parla insomma è chiaro che questo prodotto viene venduto come il prodotto con cui Hilary Blasi dice la sua no? e quindi potrebbe essere una risposta a quella famosa intervista se vi ricordate che fece scritta Francesco Totti di effettivamente che era estremamente brutta quella intervista a livello comunicativo non so post addio al calcio chi sta curando l'immagine di Francesco Totti ma da lì in poi ci sono state delle scelte per uscire sul pubblico sui giornali estremamente infelici poco professionali probabilmente non è la stessa persona che sta curando l'immagine di Francesco durante il periodo diciamo in cui era attivo a livello atletico insomma agonistico a livello calcistico ci sono appunto un paio di aspetti che ho trovato estremamente interessanti su cui secondo me se il documentario puntava tutta l'attenzione sarebbe uscito da una roba molto più bella cioè anche interessante perché aprimo delle piccole parentesi attenzione perché alla fine questo si rivela essere un prodotto molto semplice un intervistatore lei che dice la sua versione e come ben sappiamo in un divorzio in una litigata ci sono sempre due versioni la verità non dico non voglio tirare sempre il solito la storia del star nel mezzo però di solito la verità la si trova la si trova sì nel mezzo ma prendendo alcune cose che ci sono dalla bocca di uno alla bocca di un altro allora immaginate una roba di un'ora e un quarto praticamente la prima ora è di una noia mortale cioè ovvero tutto quello che noi già sappiamo racconti su racconti in gran parte se poi voi avete visto questo prodotto questo documentario mi chiamo Francesco Totti che questo è un bel documentario perché parla sia della persona che poi si mescola chiaramente con il privato come sapete qui c'è tantissimo anche del matrimonio con Hillary che ora tutti dicono ora questo prodotto oppure è come anche la serie tv quella speravo di morire prima come era con Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti e Greta Scarano nei panni di Hillary Blasi che l'hanno fatto su Sky prodotta da Sky ora perdono di valore no assolutamente perché comunque sia qui è il privato non si mette in discussione il lato calcistico come giocatore di Francesco Totti bensì da questo documentario Francesco Totti ne esce distrutto e secondo me mi dà l'idea Francesco Totti di una persona un po' così cioè ripeto dopo la finita la carriera cioè dopo l'addio al calcio Francesco Totti ha avuto tante piccole parentesi infelici lo dico da romanista da forte romanista da uno che ha sempre amato e tuttora ama Francesco Totti ma a livello pubblico chi cura la sua immagine secondo me non è più la stessa persona nei tempi di quando giocava nella Roma Francesco Totti ne esce non dico distrutto ne esce una persona quasi estremamente irresponsabile nei suoi doveri di padre di marito e tante altre cose ma non è questa cosa che ci interessa a noi e su questo punto però ci arrivo dopo perché qualche cosa bisogna comunque sia dirla però ci arrivo dopo qual è la cosa più interessante che ho trovato su questo documentario due sono le cose importanti due sono le cose interessanti non importanti la prima è che mi sembra io non ho mai visto quei documenti video audio video la prima volta di aver visto cosa è successa nella famosa diatriba l'avete seguito del fatto che Francesco Totti diceva che Hillary Blasi gli aveva rubato i Rolex e Hillary Blasi diceva Francesco Totti invece mi ha rubato e nascosto le borse e le scarpe quindi voi immaginate la prima ora di questo documentario è di una noia mortale tutto quello che già sappiamo su Hillary Blasi e Francesco Totti l'ultimo quarto d'ora è quello più entusiasmante l'hanno messo per ultimo e secondo me l'ultimo quarto d'ora è quello che potrebbe davvero dar valore a questo prodotto perché si scopre praticamente come Hillary Blasi ha trovato ha fatto questa caccia al tesoro per trovare le borse e le scarpe che Francesco Totti gli ha nascosto in casa che è una cosa da una parte estremamente comica guardate guardate questo documentario c'è proprio Hillary Blasi che va a chiamare il fabbro riprende tutto per smontare una porta la porta della sala caldaie della sala relax della loro casa io non ho neanche un angoletto per fare i video figurarsi la casa relax la stanza relax e riprende tutto e lì Hillary Blasi fa il cinema cioè nel senso tramite la videocamera cioè con la fotocamera del telefonino dello smartphone crea una memoria a queste immagini testimonia il fatto di come Francesco gli ha nascosto delle cose nel locale caldaie e ha nascosto altre cose in un soppalco in una in una specie di sottotetto una cosa allucinante e lei che va così riprende perché giustamente sono spazi piccolini non ci arriva tende lo smartphone per vedere poi rivede il video ecco qui stanno le scarpe ma guarda è qualcosa di talmente folle nel modo cioè involontariamente è la parte più interessante e io questi documenti audiovisivi non li ho mai visti mi sa che sono proprio inediti per questo tipo di prodotto magari è qualcosa che Hillary Blasi ha avuto come si scopre poi che lei sapeva tante cose già da molti anni prima ma non ha mai detto nulla magari le ha tenute per questo progetto oppure le ha tenute semplicemente per non danneggiare l'immagine di Francesco Totti in tal caso perché si vede che lei comunque sia al netto che ogni tanto gli lancia le palesi frecciatine e quant'altro sembra che ci tiene ancora si commuove poi vabbè qui sulla commozione lascio parlare gli esperti c'è chi insomma c'è chi ha lacrima facile chi piange a comando questa è la prima cosa la seconda cosa che ho trovato invece molto più interessante che potrebbe rendere questo documentario veramente scusate la ripetizione interessante è la gestione della figura di Francesco Totti in qualche piccolo short che mi è capitato di vedere prima di vedere appunto il documentario così sui social di questo di Unica puntava l'attenzione sul fatto di Roma che Roma tende a difendere Francesco Totti Roma sapeva ma non parlava si parla di Roma come di un'entità di un terzo personaggio sembra prima dell'alba di Linklater dove c'è questa Praga se non sbaglio prima dell'alba è inventato a Vienna o a Praga non mi ricordo questa città che vive tantissimo come Parigi in prima no prima dell'alba prima del tramonto era quello a Parigi il secondo e poi prima di Mezzanotte che stanno in Grecia se non sbaglio il terzo vabbè la trilogia dei Before di Linklater dove comunque sia il primo se non sbaglio era Praga magari mi sbaglio il secondo era Parigi il terzo stanno in Grecia e questi luoghi sono i terzi personaggi della coppia cioè c'è qualcosa di più sono dei luoghi che fai respirare tantissimo dunque entrano nella storia almeno in quei film qui Roma entra come un qualcosa di misterioso un'entità che sa ma non parla tutti sanno nessuno parla tutti tacciono e una cosa che dice Larry Blasi secondo me è molto interessante ovvero di come alla fine in una situazione come la loro non è un classico divorzio tra due persone ma è un divorzio tra due persone dello spettacolo diciamo lei in particolare lui comunque sia una persona conosciuta a livello mondiale Francesco Totti chiaramente lei invece è molto più incentrata su quel tipo di pubblico da forte intrattenimento lei è un volto di punta diciamo delle reti Mediaset con Grande Fratello Isola di Famos tutti questi programmi questi reality come lo è tuttora dunque sono personalità estremamente forti e la paura è proprio quella di avere a che fare con delle realtà che possono deformare alcune situazioni infatti lei dice io sapevo di un direttore di giornale un quotidiano con sede a Roma che però sapeva ma non ha detto nulla e me l'ha detto che non avrebbe pubblicato nulla perché comunque sia fare uscire fuori delle notizie che incastravano tra virgolette Francesco Totti avrebbe portato a un calo di vendite perché poi la gente ama Totti non si può dire nulla contro Totti perché poi c'è quella parte di tifo di cui io fortunatamente non faccio parte perché a me è del privato ripeto non importa nulla che poi Totti può fare tutto quello che vuole sinceramente però capisco il punto ovvero ci sono quelli che cominciano a dire ah no io quello ha parlato male di Totti dunque non lo sento più perché se si parla male di Totti non dico io parlo male di Totti no e questa cosa viene anche presa un po' in giro quando si cerca di fare dei prodotti quello ha parlato male di Totti c'era una puntata se non sbaglio l'ultima puntata della prima stagione di vita da Carlo dove lui si lascia andare un po' una battutina criticando così Totti allora si vede che tutta Roma gli dà contro e quindi Carlo Verdone che si candida come sindaco non riceve più voti perché ha criticato Totti ecco una cosa che è un po' rinomata nel contesto sportivo ed effettivamente poteva essere quello un punto molto interessante per parlare di un divorzio tra persone famose tante persone famose divorziano ragazzi tantissime questo però questo matrimonio è nato con una diretta su Sky ed è morto diciamo su Dago Spia su tutti i quotidiani di gossip internet youtube tutto è spettacolo questo unica è ancora spettacolo e in qualche modo un prodotto come unica è un prodotto figlio degli anni di inizi 2000 quando ha cominciato ad arrivare il grande fratello appunto ne ho parlato nel video precedente di Squid Game la sfida insomma del forte intrattenimento del sapere della necessità di sapere le cose di avere questa telecamera puntata del mondo dei paparazzi parliamo anche del periodo in cui Corona è uscito fuori ormai sono 20 anni che ci martellano più o meno con Corona è un tipo di spettacolo che c'è stato è cambiato nel tempo perché comunque si è anche cambiata la percezione del pubblico come anche la sensibilità del pubblico ad alcuni temi ma sotto sotto è un po' come lo sporco che si mette sotto le unghie cioè le lavi le lavi ma c'è sempre qualcosa sotto e quando cerchi di andare a scavare cosa fai la prima cosa che vai a vedere se c'è ancora quindi andiamo a vedere che cos'è sono prodotti dunque figli di verissimo di tutto quello che ha fatto Barbara d'Urso molte volte si tende a criticare Barbara d'Urso ma Barbara d'Urso alla fine è soltanto da impasto al pubblico quello che il pubblico vuole quindi sicuramente poi può piacere o non piacere io non difendo cerco però è sempre secondo me interessante capire quali sono i gusti del pubblico il pubblico vuole sapere di Francesco Totti vuole sapere di Hillary Blasi vuole sapere di questo matrimonio e quanto hanno cliccato quanti clic hanno fatto quanti giornali ne hanno parlato e quanto questo documentario spopolerà pur essendo a livello diciamo di contenuti estremamente povero è una cosa che dico sempre da moltissimo tempo voi immaginate essendo poi un prodotto Netflix dunque questo documentario arriverà in tutti i paesi in cui c'è Netflix voi pensate un cittadino americano che si siede vuole vedere The Killer il nuovo film di David Fincher poi quando finisce partono i titoli di coda e sotto forse ti potrebbe interessare unica il documentario sull'ex moglie di un calciatore ma perché? però come dico sempre Netflix non è soltanto per me non è soltanto per il cinefilo non è soltanto per il giornalista il critico l'appassionato è anche per chi vuole stare a casa e vedere una cosa semplice quando stanno lì e dicono Netflix produce sempre un sacco di schifezze ma in realtà sono poi queste schifezze che vengono sempre viste dunque questo documentario sono sicuro che verrà visto da tantissimi e secondo me se ne può parlare se ne riusciamo a parlare in un modo intelligente cioè capire quello che c'è dentro il prodotto ci sono delle cose interessanti io vi invito a guardarlo prestate soltanto attenzione agli ultimi 15 minuti la prima ora mettete a 1.5 in modo che va un pochino più veloce lasciatela andare proprio così gli ultimi 15 minuti secondo me sono estremamente divertenti dunque è il classico prodotto di intrattenimento di forte intrattenimento con lei che ti fa vedere questi video che smonta a casa e trova le borse io in quel momento ho detto mi sono entrato sono entrato nel meccanismo ho detto ma davvero Francesco Totti ha fatto una cosa del genere ma è matto cioè cosa voleva fare con questa cosa infatti è quello che poi si chiede anche Ileri Blasi e poi la seconda parte in cui lei giustamente dice la difficoltà di gestire una roba del genere quando sai che la redazione non ne parla perché ha paura di perdere i voti di perdere i lettori di non vendere le cose quello lo sapeva però era amico di Francesco Totti quell'altro lo sapeva però è un romano allora io ho dovuto ingaggiare qualcuno di Milano insomma questa era la parte interessante che secondo me poteva raccontare qualche cosina in più specialmente a livello di di movimenti di un contesto estremamente sociale anche di come funziona il mondo dell'intrattenimento dello spettacolo in questo senso a livello anche di vendite di un giornale uno dice non pubblico niente anche se so tutto perché sennò io domani non vendo più nulla e anzi mi fanno le shitstorm su internet non comprate il giornale X perché parla male di Francesco Totti questo era una cosa interessante devo essere sincero perché poi io lo posso confermare negli ambienti di tifosissimi la posizione ufficiale è Francesco tu ci hai detto al giorno del tuo addio di starti vicino e noi ti stiamo vicino con te fino alla fine questo è anche uno di quei problemi di cui si ne potrebbe parlare e lo dico da romanista non è che è un problema ma è un aspetto che poi in un contesto di divorzio ecco che porta a delle difficoltà dove magari uno dei due coniugi viene favorito a dispetto di un altro però ripeto è una cosa che mi ha attivato un paio di neuroni per pensarci sono figli di divorziati dunque su alcune cose magari mi piace anche un po' capire la differenza tra semplici persone come posso esserlo io a persone un pochino più alte ma mai avrei pensato tra tutto ciò di parlare per ben 23 minuti di unica documentario su Hillary Blasi che trovate su Netflix io chiudo qua ragazzi i commenti come sempre sono sotto se volete se c'è una discussione interessante come sempre sono il primo che partecipo con voi per commentare fatemi sapere voi se l'avete visto come l'avete trovato se condividete questi miei punti non nego che sia un prodotto veramente brutto non è di forte ci sono gli ultimi 15 minuti che nelle pieghe diciamo si nasconde un sano intrattenimento proprio da documentario dunque cose inedite io non ho mai visto quei documenti da un'altra parte ragionare un po' sui divorzi dei ricchi delle persone famose anche dei ricchi perché i soldi alla fine ci entrano sempre quindi nulla ragazzi io vi saluto qua noi ci vediamo a un prossimo video grazie come sempre per il supporto e nulla e mi ripeto noi ci vediamo appunto a un prossimo video ciao a tutti